È passato qualche giorno da quando Matteo Viviani ha ricevuto un messaggio sul suo telefonino che Ilari Blasi ha letto in diretta. Le minacce di morte erano abbastanza chiare, ma da buona Iena quale è, Viviani non ha voluto far pinta di nulla e al settimanale visto ha confessato. Chi si nasconde nell'anonimato è un vile, io continuo con tutte le inchieste che ho in corso. Sembrano così cadere nel vuoto le parole minatorie di Mr. X, che molto probabilmente si riferiva ad un servizio firmato da Viviani su pesantissime avanza ad una ragazza operata dai frati Cappuccini Minori di San Giovanni Rotondo. Nonostante la volontà di continuare a cercare la verità, Viviani ammette, io vado dritto per la mia strada, ma ho paura per mia figlia e mia moglie.